Buongiorno a tutti amici, vi dedico questo kit completo di Pasquetta, vi aspetto al negozio perché noi siamo aperti, quindi primo step importante, pulizia ragazzi, senza la pulizia non si va da nessuna parte, quindi puliamo per bene il nostro iPhone 14, la mia cliente ha scelto una bella pellicola ceramic privacy opaca, da 9,99, vediamo un po' se riusciamo a metterla al primo colpo, non ne sono sicura però ci spero, anzi già vi dico di nuovo perché c'è una bollicina, tre bollicine, sì tre bollicine, vabbè ci sta, può capitare, noi con il nostro sticker andiamo a rimuovere tutti i pelucchi in eccesso che non ci servono perché la pellicola va messa alla perfezione, altrimenti non la mettiamo proprio, Daniel Martina, professionalità, qualità, gente, amici mille, andiamo a togliere l'ultima bollicina e siamo salviti da tutto questo, perfetto. Continuiamo e andiamo a mettere la nostra pellicola animalia zebrata, adoro, sui colori chiari la consiglio sempre perché ha un disegno un po' più grande e quindi si vede sempre 9,99, se acquistate online vi diamo anche il kit per applicarla in omaggio. Ok, il mio stand di pellicola del cuore, eccolo qua. 16, 17, 18, 19, 20, tombola. E infine, Cycle Argento, marchiata, no di qua è marchiata, marchiata Armov, gente, il mio primo marchio, sono veramente felice. 9,99, 9,99 e 9,99, è solo da Daniel Martina, cosa aspetti? Puoi acquistare anche dal nostro sito www.animartina.it e sì, a Pasquetta sto lavorando, quindi pretendo che mi vieni a trovare al negozio. Un bacio ragazzi.